ciao a tutti eccoci qua per una lezione molto 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 particolare e la particolarità di questa lezione che è un interval training come vedete è un interval training particolare particolare perché nelle musiche è veramente leggero soft lyrics che è un interval training molto delicato secondo me e quindi è un interval training aerobico anaerobico ok vedete i primi i primi tre picchi sono i primi tre lavori li gestiamo su base aerobica poi andiamo pian pianino a ottenere gli altri tre picchi gli altri tre obiettivi intorno verso un limite tra tra il limite aerobico incominciamo a lavorare un po nella parte anaerobica l'ultimo l'ultimo cerchiamo di pompare un po di più ok volevo ricordare che le lezioni di interval training servono proprio per stimolare il nostro il nostro il nostro fisico a lavorare recuperare velocemente ok quindi vediamo come si comporta il nostro cuore so che tanti sono ben allenati quindi credo che vi risponderà bene il cuore di fatto questa lezione qua ha tre minuti di lavoro e un è un minuto e mezzo di recupero dico circa perché ho in certi casi non non sono non ho voluto tagliare le i brani per ottenere quei venti secondi di precisione quindi magari ho lasciato un po la il brano che terminasse quindi siamo all'incirca tre minuti lavoro e un minuto e mezzo di recupero e le tecniche sono varie oggi lavoriamo più in pianura in pianura ma pianura con resistenza e in running e montagna ok ciao una lisa io lo dovevo io direi che vi posso mettere anche dietro questa è la prima ok il condominio c'è un bel condominio piccolino ma va bene così ce la gustiamo tra di noi questa lezione e chi vuole fare la la seconda ora è ben è ben lieto invitato a farla i quattori famosi 14 picchi in due ore va bene se li possiamo fare direi che possiamo partire l'audio l'abbiamo già approvato e quindi 3 2 1 partiamo e sì è così oggi è così e ve lo dico subito oggi è una edizione delicata ok ok muovo le gambe l'ho acceso il tempo no è partito il tempo facciamo partire sto tempo facciamo un riscaldamento neanche troppo lungo perché tanto ok come va tutto a posto si sente bene muovo le gambe non mi do fretta cominciamo a sentire l'etichettino della musica cominciamo a regolare la postura la prima fase vedete un po' irregolare ciao erica benvenuta non mi do fretta non mi do fretta molto suono le gambe lascia andare il respiro si, metto un po' di resistenza ok con l'audio? bilanciato bene? ci lasceremo andare nelle melodie diversamente dalle altre lezioni che otteniamo l'intensità grazie a delle musiche potenti in realtà qui andremo a seguire più le melodie che saranno dei remix in lyrics dove il pianoforte sarà lo strumento principale in molti brani grazie a tutti minuti di riscaldamento lo teniamo al 75% questo riscaldamento quindi più basso rispetto al nostro limite aerobico e poi cominciamo a lavorare quadratamente naturalmente la prima fase caratterizzata dai jump agili non possiamo ancora mettere resistenza scaldiamo prima il cuore ok siamo pronti jump da 8 3 2 1 vai o no mi raccomando il rientro ho già visto delle schiene spaccate c 6 6 e facile facile ok resto qua stringo un po' un po' di stabilità ho sempre voglia di farmi mani con te facciamo i nostri giochi con la luce ho sempre voglia di farmi mani con te ancora 8 tempi facciamo i nostri giochi con la luce vai 8 tempi 5 6 facile morbido e 5 6 7 e ancora eh mi raccomando eh controlliamo 5 6 6 6 6 7 yeah resto qua un po' di stabilità ci permette di trovare il baricentro corretto per cominciare a fare i nostri lavori cominci a sentire un po' di resistenza nelle gambe calore lo controllo ok aspetto che questo calore passi lo sento in testa poi la pianura me lo riporta giù facciamo un'altra serie da 8 tempi ok 4 ripetizioni facile facile ok spiego un po' poco poco pronti siamo pronti 6 7 vai 1 6 6 7 7 e mi raccomando rientro eh controlliamolo e non andiamo troppo avanti con la testa 6 7 e 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 18 18 19 19 19 19 20 Ma li faccio tutti, ok? Dipende dal vostro grado Giornata Vai, uno Prima di tre, con vienino Ok, prima di tre contro il lato Ehi, due Ehi Ancora, ehi Sì, mantenila facile Ehi, ehi, vai Facile, facile, che calore Ehi, ehi Sì, vai, è riscaldamento, eh Ehi, vai Sì, sei Sei, ehi Resto qua Come la giornata, amici Rimani qua Bene Passiamo di livello Lascia che il cuore si ristabilizzi un po' più in giù Ok L'abbiamo fatto salire In maniera naturale Lo facciamo scendere Come il cuore? Sto battendo Sto battendo Stringi Stratte in running Misto pianura, ok? Questi due minuti e 43 Ci porteranno al nostro 75% massimo Andiamo su Vai Ancora Muscoli d'oro Corone d'alloro Canzoni d'amore Per bimbi col Ehi Musica seria Luce che varia Pioggia che cade Vita che scura Sto sango troppo? Cani randaggi Camelli remaggi 3 2 1 Ehi Vai Circolare Calore Andiamo a dirlo su 3 2 1 Vai Mi fido di te Ehi Mi fido di te Ehi Mi fido di te Ok Ok Risiedo Se è troppo Te la gestisci tu Ok Mi fido di te Mi Mi fido di te Facciamo ancora un riscaldamento Dobbiamo mantenere il controllo Rimani qua La rabbia stupore La parte L'attore Dottore Che sintomi Alla felicità Evoluzione Il cielo in prisione Questa non è un'esercitazione Forza e coraggio La fette Il miraggio La luna Nell'altra metà Lumi in acquado Il peggio 3 2 Vai Di Di stare con le gare La stai cattando Di stendermi sopra il burrone Di guardare Sì La vertigine Qua Paura di cadere Mi fido di te Andiamo a dirlo su Mi fido di te Mi fido di te Cosa sei disposto a perdere Eh eh Su Mi fido di te Mi fido di te Mi fido di te Cosa sei disposto a perdere Se do Questa andando Questa andando Ultimo Eh eh Mi fido di te Siedo Lascio Il cuore un attimo Si attesti Vada giù Bene Bene Aia E Com'è? Ci proviamo? E Come è? Jump Andiamo avanti E sempre l'inscaldamento Quanto tempi? Ci Sei Facile E Uno E E E E E E Facciamo ancora uno da otto E poi andiamo a quattro E Due E E Un Due Tre Quattro Vai E Uno Due Tre Come va? Uno Due Tre Quattro Littimo Uno Due Tre Quattro Ok Resto qua Wow Subito caldi È vero? Subito caldi Mi raccomando Occhio e cuore Che non vada Troppo in alto Flat Pianura E E E Jump Uno Quattro caldi Eh E Due E Tre Quattro Ancora E Quattro Tempi Ok E E E Ok Resto qua Aria Aria Sì Com'è? E E Ritmo Sì Sulla ginocchia Come va? E Ultimi due Jump Da otto Sì Sei Sette E chiudiamo il riscaldamento C Sei Sette E Cinque Sei Sette E Due Siamo fuori Di testa Ma Ritmo Siamo fuori Di testa Ok Resto qua Bene Com'è andata? Resettiamo Resettiamo Ok Cominciamo I nostri Sette Obiettivi Tre Aerobici E Quattro Un po' di più Però ci sarà una particolarità Il pianoforte ci accompagnerà Molto spesso In questi recuperi E in questi recuperi Non c'è un ritmo da seguire C'è da seguire la melodia E la propria Anima Si Attenzione 65% Qua dovremo avere controllo Non andiamo troppo giù Ok Iniziamo il primo obiettivo Con una pianura veloce Tremenda Sentiremo subito La potenza aerobica nelle gambe Il dolore nelle gambe Siamo pronti? Oh and if I had to bring Oh and if I had to bring I'd be cold as a storm And rich as a fool it turned Almost good hearts away Ok Partiamo Stringi Stringi Dai Pumpa In 2 minuti E 45 secondi Lo dobbiamo portare A limite aerobico Ok Credete che ci riusciamo? Ok Stabile Respira Petto aperto Cosa dite? Dovete gestirvi qua Avete un cronometro lì davanti Che vi dice Quanto tempo manca? Siete pronti a metterla nelle gambe? E portarla avanti? Pumpa Stringi Vai vai Batti sulla musica Siete pronti a metterla Siete pronti a metterla Vai Sai difendermi e farmi male Yeah Sezionare la notte e il cuore Per sentirmi vivo In tutti i miei sbagli Lo so È dura Pumpa 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 Trigi Eh Erodico Non significa che non si senta Difficoltà A portarla a termine Potenza erodica Vai Eh Batti 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 Rimani Libero sopra Libero sopra Sì In tutti i miei sbagli Pumpa Il mio orgoglio Che può aspettare E anche quando c'è più dolore Non trovo un rimpianto Non riesco ad arredarmi 20 secondi A tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli Libro 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 Come va? Come è andato il primo? 90 secondi Senti dolore no? Adesso molliamo Lasciamo un attimo Respirare Le gambe E ci prepariamo Per il secondo obiettivo Sempre pianura Ma più lenta Vai vai Potrebbe essere anche troppo Questo recupero Quindi cerca di rimanere Sempre sopra il 65% Toccalo Ma non andare sotto Ok? 75% Ok? 75% Pronti a ripartire? Secondo obiettivo Obiettivo Tre minuti Sono velocissimi Vedete? Quasi quasi Sarà difficile Se non ci mettiamo del nostro A portare su il cuore Così velocemente È vero? Sì Con la melodia Con la lirica E Rimani sull'obiettivo 65% In qualche modo Siamo pronti? Stringo È tutto da seduti Pompare Pompare Sì Vai 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 Siamo pronti? Sta salendo il tempo Sta già avanzando Due minuti e mezzo Alla fine dell'obiettivo Stringo Pompare Sì Dai 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 Sì Comincia a puntare di resistenza E Vai 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 Seduto qua Stabile Stabile E Lì Due minuti Stringo Anche qua Colore Sì c'è Dai Pompare Stabilizzo il bacino Ciugano le ginocchia Scarica dalla schiena e spalle E anche il collo Sì Pompare Ci vuole stabilità Sì 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 Spero ottenere questo obiettivo Non mollare Un minuto e venti Vai 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 Non perdere la spinta Non perdere Lo spunto L'energia circolare Sì Pompare Pompare 45 secondi Dai Ci stiamo arrivando Limite robico Pompare 40 secondi 40 secondi Via Dai che ci siamo 30 secondi Dai Dai che ci arriviamo 20 secondi Sì Pulisci Stabile Sì Energia 10 secondi 3 2 1 Libro Libro 90 secondi 90 secondi Le melodie ci riportano al recupero? No Com'è andata? Com'è andata? Mi raccomando 65% Stiamo attenti a non andare troppo giù Ok? Osserviamo come recupera velocemente o lentamente il nostro cuore Osserviamolo nelle varie giornate Potrebbe essere una giornata di stress oggi E il cuore si comporta in una maniera diversa L'allenamento dell'Iteva si fa nel recupero Vai Sì Siamo pronti? Terzo obiettivo In montagna Guardate Attaccate il cronometro Pompà Pompà Sì 3G Andiamoci Running 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 Mountain Fuori E Roby qualche questo obiettivo Qualcosa in più di 3 minuti Ok? Sì Attenzione che proprio quando sediamo Di nuovo stabilità questa volta in montagna Ok? Devi essere tu ad aumentare pian pianino il livello Ed arrivare in 2 minuti e 50 A toccare il tuo limite aerobico 3 2 1 Siedo Stringo Sì Stabile di nuovo Di nuovo stabile Vai 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 Metti resistenza Sì 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 Metti resistenza Vai Lo so Sta andando via il ritmo Resta il tuo motivo E Sì 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 Gira queste gambe Senti le piene Insabbiate Pompà Stringi ancora Sì Vai 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 Sono 2 minuti e 10 ancora Vai vai Stringi Sì Incomincia ad attivare Muscoli addominali Per dare più stabilità Ok? Di nuovo Di nuovo Runny Mountain Però prima stringiamo ancora un pizzico Va bene? Fuori E Sì Sì ancora Sì Pronti Lo cambio Stendi Mountain 90 secondi Anzi 1 minuto e 20 Pronti E cambio Stringi ancora uno Però Ok Aerobico Aerobico E l'ultimo Obiettivo aerobico Stringo Fuori Stendi Sì Pompà Un minuto Sì 45 secondi Stai Ok 15 secondi Rientro Stabile Stabile 10 secondi Levero Stabilizza Non fermarti Pronti Pronti 1 minuto e 20 Direzione 85 Nel tempo che rimane Stringo Stendi Sì 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 Non è Semplice Non sentire il silenzio Che c'è Ce l'abbiamo il cuore Siamo entrati in contatto Con l'anima 43 secondi Stringi Perché quello che sono Va bene Giù adesso Tu che sei la risposta Senza chiedere niente Per le luci che hai acceso A incendiare l'inverno 30 secondi Per avermi insegnato a cadere Sì Fuori Eh 20 secondi 20 secondi Levero Accendano un po' Vai 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 Levero Come Levero 3 Dai Mi è venuto un coccolone Eh dai Sì Sì Com'è andata Ok E' andato anche il quarto E' andato anche il quarto Abbiamo il quinto da fare Sempre in aerobico Questa volta lo faremo In running mountain Ok Vai 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 Ritorna Ritorna Al 65% Siamo pronti Partiamo Stringi Dimmi quello che vedi Che senti Che provi Non ti farei problemi Silenziosamente Va bene E Stringi Ricomincia A mettere resistenza Nelle gambe Attenzione Non scendere sotto 65% Devi cominciare A andare su E' partito Il conto alla rovescia Ok Stringi E' stabile Sì Vai 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 Sì Costruisci Fuori c'è il delirio Ma se non lo vedi Allora no Vai 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 Ancora Ancora Ti stringo più forte Vai metti 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 nelle gambe Sento il tuo respiro Per dimenticare Pronti un oranio Prima di farlo Stringiamo bene Vai fuori Sì Sì Cominci a stabilizzare Due minuti Due minuti per raggiungere l'85% Dove siamo arrivati? Entro Stabilizza Rientra e stabilizza Siamo arrivati al 75% E E Sì 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 90 secondi amici Devi muoverti Per ottenere l'obiettivo Sì No Pumpa Sì Anche se dirti come non lo so Mi fa male Sì Male Vai Pensare a te con tutto il mondo in mano Non riuscire neanche a prendere il fiato Vai Volerti dare tuttora e sempre E poi in realtà non riuscire a far niente Mi fa male 40 secondi Dai che ci arriviamo Limite l'abbiamo toccato Questi ultimi 30 secondi vai oltre Opa 3 15 secondi A volte mi perdo e ti perdo 15 secondi Senza dire niente Dai 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 Che tanto non è per sempre Sì Non mollarla Ho chiuso gli occhi Non mi fa accortare più Sto tanto bene nella mia ingenuità Ok rientro Libero Libera Come va? Dai Non molliamo eh Non molliamo Godiamoci questo 90 secondi di recupero Ma c'è Un ritmo da seguire C'è una melodia E un'anima che è venuta fuori Togli Togli Aria 50 secondi e ripartiamo Penultimo Penultimo Obiettivo Sempre 85% Sempre 85% Ok Vai 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 Com'è il nostro cuore Lo sentiamo? No? Si è fermato? Allora attenzione Il penultimo obiettivo Lo facciamo in running Running flat Running di pianura Attenzione eh Ce lo gestiamo Solo gli ultimi 30 secondi Veniamo qua Tutto il resto è gestione come in prima Ok stringo Vai E E E E E Ce l'hai? Stabilizza E Con la resistenza E Si stabilizza Guarda che è partito il tempo 2 minuti e 45 Per ottenerlo Ok E Vedi ancora Dai 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 Stabilizza Stabilizza Siamo pronti Running ok Ma stai continuando a salire con il cuore? No? No? Eh? Andiamo su? Eh? Su E Pulito Pulito Eh? La verità La verità è fatale La verità La verità È che tutti possono sbagliare Sì Devi sapere dai che parte stare Dai Un minuto 45 Eh? 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 Sì Vai 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 La verità È la televisione La verità Un minuto 15 Morbida la porta superiore Occhi polsi Occhi le spalle Occhio a quello Un minuto È raggiunto il limite aerobico Sì Sì Bravi 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 20 secondi Yeah 10 secondi 10 secondi Scendo Libero Sta volando Sta volando 50 secondi E poi ce n'abbiamo ancora uno Quello più cattivo Quello più cattivo Pensate Che tra un po' Li faremo tutti così Come L'ultimo Come l'ultimo obiettivo Intensivo Seudo intensivo Ok Come sta il cuore? Eh? Ci siete ancora tutti? Vai 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 Melodia Leggerezza Ancora per 10 secondi Però Ok Il tempo Sta per scadere Stringo Ci siamo? Stringi subito Stringi subito Vai 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 Ci siamo? È l'ultima Adesso devi pompare Stringi Splodi Stompa Sì Stabilizza Quasi tutto Stringi E E Pompà Pronto Rondi Montai Ci sei? L'hai presa? E Pompà Su E È veloce E Due a poco Devi portare su il cuore Oltre 85 questa volta E Sì Sì Incrementi Vai Sì Sì Lo dici E C'è di non scaldare tutto Stringi E Pompà E Un minuto e cinquanta Un minuto e cinquanta Come sta procedendo Pompà Sì Quando siedi devi stabilizzare Sarà tremendo Sarà tremendo E Anche l'ultima 90 secondi E Siedo Tengo Continua a portare sul cuore Stringi Non è facile E Vai 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 Porta l'avanti Pompà Pronto a running Un minuto amici Un minuccio Su E E Eccolo Cinquanta secondi Allungati Standing Mountain Puoi caricare ancora 45 secondi Pompà Intervallos E Troppo secondi Amici Devi andare oltre Stringi Hey 15 secondi Se riesci Accelera un po' 10 secondi Rientro Libero Togli Allora Questo Pezzo E' l'ultimo Menudia Che ti riporta Al 65% Poi andiamo nel cooldown Questo è ancora allenamento Grazie 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 a voi Libero ancora Il tempo Scorre Il tempo scorre Toglio ancora È finita È finita Ora 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 Allora Questi recuperi Erano tutti Quasi tutti Caratterizzati Da una cosa Questo se venite Siete accorti Non c'era un ritmo C'era solo una melodia Quindi Sono 90 secondi Quindi ce lo siamo tutti Per mettere A festeggiare Il giorno dopo Su un treno Che mi portava a casa Nessuno mi aveva detto Devi tornare a scuola Mi sono perso Nel silenzio Delle mie parole L'atteggiamento Di nostro Si torna giù Terrore Non riuscivo a dirti Che mi ricordavi Di lei Mi ricordavi Di lui Ero fuori Da poco Ora 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 Te la ricordi Mi piacciono ancora Quella notte Io e te Se si bu profene 90 secondi Va bene Tolgo Completamente scarico Completamente scarico E vivo il nostro cuore Non riuscivo a dirti Che mi ricordavi Di lei Mi ricordavi Di lui Ero fuori Da poco Mi sono perso Nella notte Non mi hai mai abbracciato E mi vergogno A dirlo Di solito Sputo a fuoco Non riuscivo A dirti Che mi ricordavi Di lei Mi ricordavi Di lui Ero fuori Da poco Ho visto foto Di te Il tuo compagno Una bambina Abbiamo recuperato? Possiamo fare la tripletta? Questa casa L'hai finita Io no Dovevi portarci me Dovevi portarci me Se si bu profene Mi sono perso L'importante L'importante è che Basta ancora Questo cuore L'atteggiamento Di nostro Sì C'era Terroro Non riuscivo a dirti Che mi ricordavi Di lei Mi ricordavi Di lui Ero fuori Da poco Mi sono perso Nella notte Non mi hai abbracciato E mi vergogna A dirlo Di solita Sputa fuoco Non riuscivo A dirti Che mi ricordavi Di lei Mi ricordavi Di lui Ero fuori Da poco Come le gambe Come le gambe Allora lentamente Fermo Mi fermo Faccio entrare aria Ok Torno dritto Con la schiena Aperto con le spalle Fai entrare l'aria Fai 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 Via Prendi aria Espiro Vai Espiro La lascio passare Ancora La melodia L'aria Prendo ancora aria Andando verso l'alto La schiena di nuovo Stesa Allungata Espiro Vai Giù Ok Una tazza di con le spalle Uno Due Tre Cambio Uno Due Tre Giù con una gamba Il braccio Lo segue Si allunga E il capo va dall'altra parte Troppo cerebrale per capire Che si può star bene Senza complicare il pane Viaggio sta volgendo al termine Ci si spama sopra un bel giretto Di parole vuote ma doppiato Torno su Cambio Cambio Mangiate le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'acquilone Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace Liberi come l'avamo e ridi dei centimetri di liberi sotto i piedi per tirare la mania della portata del fuori Schiena dritta, spalle aperte, mani sul capo, chiudi i gomiti, mento verso il petto Schiena resta dritta Cervicale che si allunga Dolcemente Apro Mani sul manubrio Salgo Tutto lì in su Baccino retroverso lì in su Giù il tallone della gamba dietro Otre volti i piedi come sugli aioni Teghiamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio Cambio Cambio gamba Porto l'altra gamba davanti Stessa cosa con il tallone opposto Potrei ma non voglio Ci darmi di te Io non ti conosco E in fondo non c'è In quello che dici Qualcosa che pensi Sei solo la copia Di mille riassunti Leggera, leggera Siedo Rimane Pian pianino Scendo dalla bike Tenendomi, ok? Attenzione che potrebbe avvenire un calo di zuccheri Proprio adesso Quando scendi Successo, ecco, quello che vuol dire Ok Appoggio il tallone sulla base della bike Gambe dritte Spalle aperte Giù Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo E quando dormo taglia bene la pillone Togli la ragione Lasciami sognare Lasciami sognare in pace Ok Riprendo la gamba La porto dietro Apprendo il collo dei piedi Unis 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 Cambio gamba Cambio gamba Potrai ma non voglio fidarmi di te Io non ti conosco Mi porto sulla punta del piede Mi sto vicino alla gamba In fondo non c'è In quello che dici Qualcosa che pensi Sei solo la coppia Di mille riassunti Leggera, leggera Si bagna la fiamma Riprendo la gamba La porto dietro Aiuto Allineo E non ci sei più E non ci sei più Ok Giù Allargo leggermente le gambe Attezza spalle Una bella rinunca Una bella ispirata Allungati verso l'alto Aspiro giù Ultimo Chiudi Le gambe Prendi il massimo dell'aria che puoi Allungati il massimo che puoi in alto Lasciali il bacino Aspiro Giù Grazie Spero che vi sia piaciuta Mandatevi i feedback E il grafico Questa volta lo voglio Questa volta lo voglio Grazie Ciao 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 Ciao